Qui ciascuna un pochino diverso Ciao ragazzi, con grande piacere mi trovo qui, vedete, sicuramente l'avete già riconosciuto con un grandissimo campione del calcio, quindi accontentiamo tutti gli amanti del calcio ma in particolar modo per quello che abbiamo sviluppato in questi ultimi mesi era compagno di squadra e ha conosciuto e ha convissuto con Paolo Rossi Do il benvenuto a Beppe Bergomi, grazie prima di tutto per la grande ospitalità E soprattutto per il tempo che ci debiti Racconta un po' la tua carriera calcistica e poi entriamo nel merito No, va bene, ciao a tutti ragazzi, sono lo zio, Beppe Bergomi, mi chiamo lo zio perché quando avevo 14-15 anni, la prima volta che sono entrato nello spogliatoio della prima squadra avevo 16 anni e Gian Piero Marelli mi ha detto quanti anni hai? Gli ho detto 16, mi ha detto sempre il mio zio, che dimostravo qualche anno in più e allora da lì è rimasto questo soprannome Ma la mia carriera, io ho fatto il settore giovanile prima nel mio paese, a Settala, nella bassa milanese e poi qua a 14 anni sono andato nel settore giovanile dell'Inter ho fatto dai giovanissimi agli allievi la primavera e ho esordito in prima squadra a 16 anni una Coppa Italia contro la Juventus una partita di ritorno, era in gennaio del 1980 poi un anno dopo, nell'81, 22 febbraio ho esordito in campionato e da lì, insomma, è partita la mia carriera dove ho fatto vent'anni di Inter dove, lo sapete, nell'82 insieme a Paolo Rossi ho vinto un campionato del mondo ne ho giocati altri tre in totale 4, nell'86 nel 90, dove ero capitano in Italia purtroppo non siamo riusciti a vincere siamo arrivati al terzo posto e ho finito nel 98 ho saltato quello del 94 perché, insomma, l'Issacchi aveva fatto altre scelte però la bella rivincita è stata quella giocare del 98 e nell'Inter, la mia carriera insomma, io ho vinto uno scudetto dei record nel 88-89 tre Coppe UEFA, una Coppa Italia una Supercoppa, non sto lì ad elencare ma ho avuto vent'anni dove, insomma è stato bello perché è stata la maglia che ho indossato da ragazzino nel settore giovanile e ti crea quel senso di appartenenza molto forte che per me è stato importante ho fatto per dieci anni il capitano insomma, quella è stata la mia carriera ho smesso nel 99 e nel 99 sono andato a lavorare in televisione a Sky allora che le più, adesso Sky e continuo ancora tutt'oggi quello è il mio lavoro è una grandissima carriera soprattutto, voglio dire, con la fascia di capitano ma non solo di capitano dell'Inter ma della nazionale che, ricordo bene, è giocato 4 mondiali lo usavo alla fine e a livello di numeri che, ricordo, ha così e sono 750 partite nell'Inter più o meno 756 ecco, poi in nazionale 81 perché, ecco, così diamo il quadro allora, una delle, così, richieste dei ragazzi dopo la visione del docufilm di Paolo Rossi e chiaramente che ha colpito tutto il mondo sportivo e tutti i ragazzi è stato il grande significato che da questo docufilm emerge che è il valore della nazionale il valore della patria allora, volevo chiederti ma che emozione dà davvero indossare la maglia della nazionale? poi parliamo anche dell'Inter ma quella della nazionale è una grande bella domanda questa perché ho sempre risposto che indossare la maglia della nazionale ti dà delle sensazioni uniche che nessun'altra maglia ti può dare quindi, per me che ho perso mio papà molto giovane avevo 16 anni quando indossavo la maglia e poi sentivo lì all'inizio il mio pensiero andava lì a mio papà e poi era come rappresentare tutta la nazione che andava, tra virgolette, ragazzi in battaglia contro l'avversario quindi sentivi questa responsabilità ma ti dava delle gioie delle soddisfazioni incredibili io quando giocavo in nazionale per recuperare ci volevano due o tre giorni perché è come se ti frusciudava tutte le energie perché davi tutto per quella maglia azzurra quindi è una sensazione bellissima in più se lo indossi in una fase finale di un campionato del mondo se riesci a vincerlo è ancora più gratificante da quel punto di vista però dà delle sensazioni incredibili quindi per un calciatore quando arrivi ad indossare una maglia azzurra è il massimo traguardo assolutamente difatti i ragazzi hanno colto molto questo senso di appartenenza e mai come te mi viene da dire che durante tutta la tua carriera calcistica che è iniziata presto meno male tu sei l'espressione dell'appartenenza perché alla fine ti ho usato due maglie quella dell'Inter e quella della nazionale quindi cosa ti ha spinto realmente a mantenere sempre fede a una società quindi cosa ti ha legato quali sono i sentimenti? ma guarda che cosa mi ha legato all'Inter io settore giovanile che secondo me è una scuola di vita molto importante ho avuto degli allenatori degli istruttori che mi hanno veramente dato tantissimo e poi quando tu fai il salto settore giovanile prima squadra ma sei in una prima squadra c'è una squadra di livello mondiale andare via diventa difficile poi io sono un milanese sono andato qui quindi ho avuto durante la carriera ragazzi delle situazioni dove potevo magari andare a trovare altre situazioni ma alla fine ho preferito sempre rimanere all'Inter tu parlavi di senso di appartenenza però io avevo un allenatore che mi diceva Beppe guarda che fare il capitano non vuol dire scambiare il gallerdetto con quell'altro e quello sono capaci tutti e quindi mi ha fatto capire determinate cose io adesso ragazzi sono qui che parlo con voi parlo in televisione ma non ero uno che parlava molto però mi piaceva essere un esempio positivo per i giovani che arrivavano in prima squadra per gli stranieri che arrivavano e dovevano indossare quella maglia perché quella maglia trasmette dei valori unici ogni squadra ha il proprio DNA né migliore né peggiore degli altri ma diverso e quindi tutto questo tu parlavi di senso di appartenenza questi valori cioè per me era difficile per via da l'Inter ho cresciuto nel settore giovanile quindi ma di fatti a fine carriera dove io ho smesso a 36 anni avevo delle altre opportunità dove vado io finisco la carriera all'Inter quindi l'Inter la nazionale l'abbiamo detto la nazionale con la maglia lede che crea veramente un senso di appartenenza un senso di unione di gruppo di squadra poi ho avuto un maestro come Berzot ma anche tutti gli altri allenatori che sono stati per me importanti veramente mi ha dato tanto ma tutto questo messo insieme mi ha portato poi ad essere e a rappresentare sempre queste due squadre la vela nazionale in quattro mondiali ma soprattutto l'Inter per vent'anni è importante perché emerge molto in questo nella lettura del mondiale 82 i tuoi compagni di squadra da Tardelli piuttosto che Antonioni piuttosto che altri che hanno partecipato a questo docufilm parlano appunto di gruppo di grande unità con un padre più che un allenatore quindi tu che sei stato capitano ma capitano tanti anni di nazionale di Inter quale potrebbe essere un consiglio per questi gruppi classe che si trovano in palestra a fare dei sottogruppi per fare delle attività che devono magari trovarsi a casa per fare dei gruppi per svolgere dei compiti qual è l'elemento importante per essere parte di un gruppo e di conseguenza sentirsi importanti e risultare importanti per il gruppo allora il gruppo secondo me è fondamentale nell'82 noi avevamo allora io ero un ragazzo giovane di 18 anni tu hai citato dei nomi straordinari 18 anni io e Zoff gli aveva 40 e quindi e quelli erano un gruppo di grandi giocatori ma di grandi uomini e quindi per me è stato veramente non facile perché di facile non c'è nulla però mi hanno facilitato molto il mio inserimento perché veramente erano grandi uomini e davanti cioè davanti a noi c'era Berzoff che era il nostro grande condottiero che era uno che non sapeva solo di calcio era una persona colta intelligente sapeva trasmettere i valori e anche nelle scelte dei giocatori se tu ti ricordi altre volte hai lasciato a casa qualcuno per privilegiare nel portare dentro qualcun altro che facesse gruppo che fosse importante all'interno del gruppo e quindi quello si è fermato veramente un grande gruppo ma che giocava da squadra perché tu puoi essere un gruppo fuori ma se non giochi da squadra dentro non riesci da tenere spiego la differenza tra gruppo e squadra esatto che è molto importante e niente quindi tutto questo io poi per quanto riguarda la vostra attività ragazzi io alleno dei ragazzi qui in Accademia Inter e dico sempre che per fare il gruppo ci vuole una stima reciproca cioè devono volersi bene tra di loro un rispetto reciproco ma il rispetto delle regole il rispetto di se stessi di chi ti sta vicino io parlo di una squadra invisibile non so come funziona da voi ma da noi non so il ruolo del magazziniere di quello che pulisce gli spogli sono tutte persone che loro devono rispettare che quando arrivano devono salutare tutte queste componenti poi fanno gruppo all'interno di una squadra ma la stima reciproca che deve esserci tra di loro parlavano prima di valori di senso di appartenenza perché ragazzi ricordatevi sempre che non è importante tanto il nome che portate sulle spalle vi dico sempre ai ragazzi ma lo scudetto che portate sul cuore se voi riuscite a capire che è quella l'importante allora riuscite veramente a fare il gruppo e andare oltre gli ostacoli ma un'altra cosa che mi piace dirvi è che per raggiungere i risultati bisogna fare fatica perché io mi riferisco la scuola è diverso ma nel calcio tutti dico ma per voi giocare a calcio è un sacrificio tutti mi rispondono di no perché è bello però se vuoi ottenere qualcosa devi far fatica perché se nessuno ti regala niente quindi queste sono le cose che cerco di dire a loro e se voi siete anche un gruppo queste sono delle cose che vanno bene secondo me anche a livello di scuola benissimo ottimo difatti mi piacerebbe sentire la tua viva voce perché molti ma non solo i ragazzi anche gli adulti ma basta il talento io glielo spiego sempre perché addirittura c'è Einstein che dice il talento è l'1% il 99% è tutto studio è tutta volontà tutta determinazione ma un calciatore tante volte però porta via un po' questa cosa prendiamo gli atleti in generale uno gli viene un po' spontaneo da pensare è talmente forte che magari non si allena cioè o si allena un po' spiega no 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 questi allora il talento non basta io ho avuto un che ho allenato a Bergamo Mino Favini che è stato veramente ragazzi adesso è mancato da qualche anno ma è uno scopritore di talenti in assoluto più bravo prima a Como poi a Bergamo e mi diceva sempre il talento Beppe va aspettato e quindi magari ci sono giocatori di talento che magari non ce la fanno perché fisicamente non sono pronti ma si aspetta poi dopo come dicevi prima tu il talento non è sufficiente perché ci vuole quella forza di volontà quella voglia di far fatica per raggiungere dei risultati bisogna avere la pazienza pazienza che con i giovani tante volte questi ragazzi non hanno perché vogliono bruciare le tappe perché gli stessi genitori tante volte come tipo soffiano su di loro no e quindi questo loro voler arrivare in anticipo o anticipare le tappe si riferbbero un po' sui ragazzi che tante volte non hanno la pazienza di aspettare il loro turno quindi sono tutte cose che secondo me a livello giovanile secondo me sono importanti quindi il talento non è sicuramente sufficiente perché il Signore ha dato tutti dei talenti però se non ci metti la voglia di far fatica di lavorare come parlavamo prima il senso di appartenenza la volontà sono tutte cose che poi ti fanno andare oltre perché ne ho visti tanti nel settore giovanile avere tanto talento ma poi alla fine non riuscire a fare quel salto per arrivare a ognuno di noi trova la propria strada non è detto che devi arrivare per forza in serie A però fare quel salto e raggiungere quella strada quel tuo obiettivo che ti sei posto qui ciascuna è un pochino diverso che ti sei posto ti sei posto che ti sei posto Grazie.